La mia opinione è la seguente, che noi siamo dentro la crisi della globalizzazione neoliberista, cioè è finita la prima fase dell'universalismo capitalista, insomma quello degli anni 90 e avanti, e il capitale non è in grado di uscire dalla crisi e dentro questa crisi c'è una riproposizione dei blocchi geopolitici da parte degli Stati Uniti, perlomeno. Io leggo in questo senso sia la guerra in Ucraina, sia le varie guerre attorno all'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, con le destabilizzazioni, Libia, Siria e tutto il resto. Questa guerra per adesso con focolai limitati, a mio parere agli Stati Uniti non gli sta andando particolarmente bene nell'area del Mediterraneo e del Medio Oriente, perché gli è saltato per aria tutte le forme di coalizioni che avevano messo in piedi, contraddizione che hanno. Sciti, Sunniti sono stati obbligati a venire a trattare con l'Iran, l'Arabia Saudita sta tutto da un'altra parte, insomma non mi dilungo perché qui siete tutte persone che conoscete questo. Quindi crisi economica pesantissima, con loro non in grado di uscirne, tendenza degli Stati Uniti a riproporre in forme geopolitiche la propria egemonia che aveva lavorato e la prima guerra del Golfo stava in quella dimensione e lì invece a presentarsi come l'impero, come taluni dicevano. Qui invece è proprio la costruzione di un blocco. Il trattato transpacifico da un lato e il TTP dall'altra sono le modalità economiche di costruzione attraverso cui gli Stati Uniti si pongono al centro della segmentazione di una rete di alleanze che lasciano fuori la Cina e la Russia e l'America Latina e Roma e terreno di contesa. In questa sorta di ripresa di guerra fredda, di guerra per blocchi, il rischio della guerra più pesante mi pare evidente sia sotto gli occhi di tutti anche perché non essendo loro in grado di risolvere il problema della valorizzazione del capitale qualcuno deve rimanere con i piedi fuori della coperta. E quindi mi pare che sia in corso una guerra economica e finanziaria pesantissima in cui a me pare che quello che veniva descritto come la tendenza imperialista cinese sia un po' più debole di come veniva descritta. Mi sembra che gli altri sono decisamente più potenti. E quello che tu in parte descrivevi come investimenti all'estero io la chiamerei fuga di capitali. Mi sembra che la Cina sta messa un po' peggio, però non è questo il punto fondato. Quindi tendenza alla guerra. Seconda considerazione. In questa tendenza, in questa riorganizzazione non più della globalizzazione neoliberista sul mondo ma su aree a me pare abbastanza evidente che il modo in cui il capitale sta agendo e la costruzione di entità parastatali prive di democrazia, cioè l'Unione Europea per certi versi è la costruzione di un sistema di regole immodificabili dalle forme democratiche. I trattati non sono sostanzialmente modificabili né dal Parlamento Europeo né dal Parlamento Nazionale. Ma purtuttavia nell'Unione Europea ancora esiste in parallelo ai trattati un Parlamento Europeo. Il TTIP se riescono a farlo è una forma di superstato perché è una sorta di superstato che garantisce la libertà di investimenti e di commercio con la dominanza delle multinazionali in assenza di qualsiasi meccanismo rappresentativo. Allora a me pare che la tendenza alla guerra economica dentro un'incapacità del capitale di valorizzare se stesso e dentro la caduta del tendenziale saggio di profitto e tutto il resto, cioè l'incapacità di uscire dalla crisi, l'impossibilità di uscire dalla crisi nelle forme classiche della crescita perché i limiti ambientali allo sviluppo sono palesi e i disastri che stanno piantando sul piano ambientale sono lì a dimostrarlo e saranno ancora più pesanti. Si accompagna a mio parere a una tendenza non al fascismo nel senso della distruzione della democrazia, ma del chiudere le forme democratiche dentro gabbie d'acciaio immodificabili che si pongono al di sopra degli stati. Da questo punto di vista mi pare che siamo alla chiusura del ciclo della rivoluzione francese. Nel senso che l'idea del TTIP è un'idea che c'è una superlegge internazionale che mette al centro la libertà del commercio e degli investimenti e che tutti gli altri diritti stanno sotto di questo e che quindi non è possibile democraticamente modificarlo. Quindi da questo punto di vista a me pare che la Cina sia il modello di gestione politica degli Stati Uniti, cioè che la modalità di gestione politica è una modalità burocratico-autoritario in cui le leggi del neoliberismo, del capitalismo vengono messe come una superlegge al di sopra della democrazia e poi la democrazia di rimi e le quisquiglie, ma non è in condizioni la democrazia di intervenire sui nodi fondamentali del vivere civile. Questo a me pare il punto. Legato a questo e della terza considerazione che faccio sul piano analitico, l'impressione mia è che questo elemento della tendenza alla guerra che è dentro una competitività esasperata non ha solo un rilievo dal punto di vista di come si comporta l'impresa o di come si comportano gli stati o di come si comportano le classi dominanti, ma a me pare è un progetto di modifica antropologica dei popoli. Il fatto che una persona non sia più considerata, diciamo, assolutamente non come interno a una dialettica di classe. Ovviamente l'offensiva capitalistica, oltre a distruggere i diritti dei lavoratori, è stato a distruggere l'idea che esistessero le classi sociali. Ma secondo me stiamo andando molto oltre nel fatto che la persona viene sostanzialmente proposta come impresa e quindi il singolo individuo è esso stesso un'impresa in concorrenza con tutte le altre imprese, deve valorizzare il proprio capitale, deve crescere, a scuola deve prendere dei punti, deve fare delle classifiche e poi deve essere in grado di fottere le altre imprese nel mercato perché non ce n'è per tutti. Questo elemento della costruzione scientifica della guerra tra i poveri sul piano del mercato del lavoro è dentro il lavoro, è la forma concreta con cui si sono riorganizzate le imprese. Le imprese funzionano non solo come produttrici di merci e non solo come era nella fabbrica fordista come produttrici di gerarchie sociali, ma funzionano come costruzione di guerra tra i poveri scientificamente organizzata. Nel negozio dove mia figlia vende padelle nell'ipercorp di Pinerolo ci sono cinque dipendenti e tre livelli gerarchici e i livelli gerarchici servono a mettere l'una contro l'altra, sono tutte donne, garantendo il fatto che chiunque venda una padella segna la crocetta a fianco del nome sulla cosa e sul fatto che essendo lavoratrici a tempo determinato chi non ha abbastanza crocette alla fine del giro se ne va fuori dai coglioni. Questa cosa qua non è solo il negozio di padelle dell'ipercorp di Pinerolo, è la modalità con cui ho organizzato il lavoro. La mia impressione è che questo stia modificando l'antropologia delle persone, in particolare sulle giovani generazioni noi abbiamo, secondo me, una devastazione antropologica che è una devastazione in politica, perché non è l'adesione a un modello di destra, di società gerarchica, è la percezione che tu sei dentro un mondo che funziona nella guerra totale. Da questo punto di vista io penso che Renzi non è null'altro che una razionalizzazione di cosa dice Salvini, non è null'altro che una razionalizzazione della cosa che dice Renzi, perché il razzismo non è null'altro che la prosecuzione della competizione organizzata in forme un po' diverse e con qualche elemento di mutualismo per gruppi di privilegiati. E la guerra non è null'altro che un altro pezzo. Allora da questo punto di vista a me sembra che siamo in una situazione tutta diversa dagli anni 90, perché il rischio che vedo io è che con l'elemento del terrorismo la militarizzazione sia letta come un fenomeno positivo, ci difendono. E che con l'elemento dei profughi, dentro il contesto della guerra tra i poveri e della concorrenza spietata tra gli individui, l'elemento del razzismo diventi una delle forme attraverso cui pezzi di classe pensano di potersi difendere. Questo a me sembra il punto. Allora, se questa roba che ho detto ha qualche cosa a che vedere con la verità, io penso che è indubbio che bisogna fare tutto quello che si può contro la guerra. Noi abbiamo dato l'adesione alla manifestazione del 16, piattaforma, era quello che era, ma io ho ritenuto la stessa cosa che diceva Giorgio, cioè in qualche modo che chiunque, adesso la dico brutalmente, ma insomma chiunque dica, diciamo, ricordiamo che forse qualche casino è cominciato di lì, perché poi questo secondo me è utile, così come io sono d'accordo a fare una battaglia sulla Nato, segnalo dal mio punto di vista che il Papa è un alleato in questa roba qua, perché il Papa è assolutamente un avversario sul versante diritti civili e tutto il resto, ma sul versante critica della disumanizzazione insita nel modello neoliberista di concorrenza totale che sbava nel razzismo e che sbava nella guerra, io considero il Papa un alleato. E quindi penso che, diciamo, la ricostruzione di un elemento va fatto usando, come dire, per me va bene dalla rete dei comunisti appunto al Papa, da questo punto di vista, se riescono a produrre elementi di anticorpi e di mobilitazione contro la logica che va avanti. Sul che cosa fare concretamente? Posto che rifondazione starà, per le ragioni che ho detto, in ogni mobilitazione che venga proposta, e stiamo lavorando un po' col mondo dell'associazionismo, a vedere se è possibile ricostruire qualche elemento di tessuto, io do un giudizio meno severo di Giorgio su come è finito il complesso delle forze che si sono mosse, diciamo, attorno al movimento no globa. Sono tante cose così, ma c'è anche gente che, diciamo, non è diventato tutto terzo settore venduto, o politicanti venduti, qualcosa sì, ma... No, ci sono anche non venduti, ci sono anche quelli che si occupano... Sì, sì, delle cose. I vegani, i vegani... No, 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 ma secondo me non è solo così. La mia opinione, al netto delle abitudini, dei costumi alimentari, diciamo, non... ovviamente che un po' di movimento c'è ancora. Allora, stiamo lavorando anche su quel versante. Il punto che io però, quindi, data la disponibilità a lavorare su qualsiasi terreno, io però penso, in tutta franchezza, che messa così, uno dice, vabbè, lo faccio perché sono antimilitarista, contro la natura, ma non sarà un cazzo. Bisogna anche dirselo. L'impressione che ho io è che il problema della sinistra, dei comunisti, mettetela come cazzo volete, è di come si mette assieme qualche elemento di interesse materiale della gente con il tema della lotta alla guerra, perché altrimenti, secondo me, stiamo su un terreno che io sono per praticare. Io sono valdese, ho fatto l'obiettore di coscienza a vent'anni, non è che ho problemi a praticare la testimonianza, ma penso che bisogna capire che, diciamo così, si rischia di essere totalmente inefficaci sul piano politico. E non penso, diciamo, segnare la distanza morale, oltre che politica, come segnala Giorgio, è un punto. Penso non sia sufficiente. L'impressione che ho io è che il vero nodo che abbiamo davanti sul piano politico, su cui io penso che bisogna lavorare, è complicata, è dell'intreccio tra guerra e profughi, e cioè di come la guerra produce i profughi, e di come questo meccanismo qua può diventare un meccanismo che permetta di aprire una discussione sulla guerra anche tra gli strati della nostra gente, che, diciamo così, non ha una sensibilità fortissima sul tema, perché, come è noto, quando la coperta è corta diventano razzisti prima gli operai dei notai, perché i notai non stanno nelle case popolari, non hanno il problema del posto all'asilo nido, non hanno il problema del lavoro e hanno anche le guardie al cancello della villa se gli serve. Quindi il problema è la nostra gente. Io penso che il problema che abbiamo politico, prima ancora, ripeto, partecipiamo a tutte le mobilitazioni contro la guerra, ma è se riusciamo a costruire un elemento di coscienza e di percorsi politici che tenga assieme l'elemento della guerra che facciamo noi, l'Italia, la Nato e tutto il resto, che destabilizza con l'elemento dei profughi, perché bisogna far connettere la cosa nella testa della gente, perché altrimenti tu hai nella stessa persona quello che dice bisogna andarli a bombardare perché sono dell'Isis e bisogna buttarli fuori perché sono dei profughi della guerra, che cazzo vuoi. Questo tema qui noi dobbiamo riuscire a costruire un discorso politico che tenga assieme e che permetta di fare un ragionamento. Io penso che sia possibile e penso che però bisogna provare a prenderla su questo versante, perché noi per l'appunto dobbiamo rompere secondo me l'elemento sui due versanti, profughi, razzismo, terrorismo, militarizzazione. Se stiamo solo sul no alla Nato e sul no alla guerra, secondo me vincono loro, detta brutalmente. Lo dico perché io, ad esempio, sul movimento contro la guerra in Iraq ho un giudizio diverso da quello che è stato anche qui espresso molte volte. Io non penso che quel movimento abbia perso brutalmente. Ora, sarà che io non ho mai pensato che le mobilitazioni sarebbero riuscite a fermare la guerra. Può darsi che fosse per questo. Non l'ho mai, giuro, non ho mai partecipato a una mobilitazione contro la guerra o contro i misi davanti pensando che l'avrei fermato. Io penso che il movimento, in quel caso, serve a costruire coscienza, serve a poter evidenziare dopo quando vengono fuori i casini il fatto che tu gliela vedi. E io penso che quel movimento abbia sedimentato. In questo senso, io non me la sentirei di dire che quel movimento è semplicemente stato sconfitto. Sul piano militare sono più forti loro di noi, diciamo. E come Stalin che dice quante armate c'ha il Papa, cioè che cazzo il senso c'ha. Non è questo il problema. Il problema è quanto sedimenti. Io ho l'impressione che quel movimento ha sedimentato. E io penso che noi dobbiamo essere capaci a connettere la questione degli interessi materiali con quegli elementi di umanesimo diffuso, la dico così, di quel movimento perché non era molto più qualificato, perché altrimenti noi abbiamo l'elemento della Svezia e l'elemento normale. L'alleanza rosso-verde danese si è opposta, diciamo, alle porcherie del governo e dei socialisti. Ed è meglio quello che non votare a favore alle cose sbagliate. ma se il nostro problema non è di limitarsi a dire che noi abbiamo votato contro ma di vedere come cazzo si fa un movimento io penso che il nodo è questo qui. Di come si connette la difesa degli interessi materiali con l'elemento della guerra connettendolo anche alla questione dei profughi e della lotta del razzismo e tutto il resto. A me pare che questo è il nodo. E se la dovessi dire in termini generali questo sì credo che è il problema io penso questo. Penso che noi dovremmo dire il mondo non è mai stato così ricco ci sarebbero le condizioni per vivere decentemente tutti già oggi c'è la possibilità di mangiare tutti e avanti se invece che questo invece che questa la gestione di questa ricchezza possibile c'è una riproduzione di scarsità e di distruzione di capitale di condizioni di vita della gente dentro la crisi e esattamente per il meccanismo di funzionamento del capitale ed è accentuato questo dall'elemento della concorrenza cioè il mondo in queste condizioni non può essere gestito dalla concorrenza che poi diventa razzismo diventa guerra in questo senso io penso che se c'è un punto da mettere al centro è di dire che noi avanziamo a una proposta radicalmente e frontalmente contraria alla concorrenza che è il punto di fondo da cui parte la guerra perché solo discutere della guerra senza discutere dell'altro secondo me rischiamo di non parlare alle condizioni della gente che quindi il tema è la cooperazione il tema è la programmazione ed è la cooperazione tra le nazioni e non altro finisco ho finito il tempo finisco con un'ultima battuta io sono diciamo d'accordo con lo schema che voi dite dei fronti della rete questa roba qua penso che e ci abbiamo provato continueremo a provarci che in Italia c'è un tema di chi va a occupare sul piano politico il posto della sinistra la dico brutalmente secondo me è aperta una lotta per l'egemonia su questo e questa è la partita che a mio parere è in corso oggi può essere un impianto tardo-prodiano diciamo così o nostalgico-prodiano o può essere un impianto che io non sono per arrivare a definire anticapitalista lo definisco antiliberista perché secondo me oggi sul termine capitalismo non siamo in grado di allargare quello che serve per sconfiggere il liberismo bisogna secondo me va tenuto un impianto più comunicante ma penso che questo è il nodo allora da questo punto di vista come rifondazione comunista noi continueremo a lavorare per provare a costruire uno schema di sinistra antiliberista a rete di coalizione insomma in quello grosso modo quello schema lì un po' latinoamericano diciamo come schema e per noi lo spettro è grosso modo lo spettro di quella che è la lista delle elezioni torinesi cioè che va da voi al pezzo di sel disponibile a romper col PD non so avevo capito no no avevo capito che a Torino ci stavate avevo capito male siamo osservatori osservatori allora diciamo così allora chiuso l'esercizio avevo capito no 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 chiedo scusa avevo capito che ci stavate diciamo per me lo schema è quello lì cioè uno schema come non siete elettori di Airaudo io sì io sì no sono di Pinerolo quindi non voterò Airaudo al netto di questo cioè per me c'è uno schema politico di quel tipo lì per cercare di costruire questo questo dal mio punto di vista non ha contraddizioni con la costruzione di reti e di forme di cooperazione e di collaborazione ad altre geometrie perché io penso che il nodo oggi è che nessuno da solo è in grado di fare un beato cazzo e che o si riesce a mettere assieme forze per ricostruire elementi di mobilitazione di massa oppure il rischio è vox clama desert diciamo poco più e quindi per quanto ci riguarda siamo molto interessati a costruire tutte le forme di rete di coalizione di mobilitazione avanti che siano finalizzate alla costruzione di elementi di mobilitazione e alla costruzione di elementi di contropotere di denunce e di alternativa rispetto alla situazione drammatica in cui stiamo vivendo e che appunto temo che per la prima volta da un po' di decine d'anni rischiamo di vedere significativi strati popolari di questa Europa che vanno a destra senza nemmeno rendersene conto perché questo non è un'adesione alla destra politica è uno scivolamento dentro un contesto di questo tipo per questo io penso che il tema della rete della coalizione del fronte ripeto io ho una geometria che è diversa da quella che avete descritto voi ma non sono per porre steccati da nessuna parte sono per fare tutte le forme di collaborazione che si possono che si può fare per cercare di alimentare quello che si può di conflitto sociale e di ricostruire un conflitto di classe contro questo elemento della guerra tra i poveri che invece mi pare essere il vero rischio su cui si basano le classi dominanti grazie 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 grazie